Questo Natale cambia musica! Per il regalo perfetto lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Dieci pomeriggi di musica da camera dal barocco al Novecento per ridare vita alla chiesa San Giuseppe di Voghera, il luogo che ospiterà la stagione concertistica intitolata I pomeriggi musicali a San Giuseppe, che inizierà con il concerto di Capodanno 2017 fino al 7 maggio del prossimo anno. L'iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Voghera e pieno supporto dal commissario prefettizio Sergio Pomponio, è organizzata dall'Accademia Musicale Rossini ed è pensata anche per gli studenti delle scuole superiori. Durante la stagione, infatti, verranno effettuate repliche ad occhi in orario scolastico, così da regalare ai ragazzi un'educazione musicale che purtroppo non è presente nelle scuole secondarie di secondo grado. Dal primo gennaio, che non è domenica, quindi eccezione per il primo gennaio, ma dal primo gennaio tutte le domeniche fino al 7 maggio a Voghera, presso la chiesa di San Giuseppe, una serie di eventi o di pomeriggi musicali, sono dieci concerti tra Barocco e Novecento, dalle note del Prete Rosso alla Corte Imperiale di Vienna, imprevedibili percorsi musicali attraverso i secoli. Bisogna spiegare questa frase che ho appena pronunciato. In che cosa consiste questo progetto e quali sono questi dieci eventi? Sì, questo progetto parte dal presupposto di creare un percorso culturale musicale che tocchi sia repertori più conosciuti, quindi quello del Prete Rosso che è Vivaldi, o della musica viennese, quindi degli Strauss per il primo di gennaio, fino ad arrivare ad improbabili incontri musicali, come il concerto Masked Music, che sarà un concerto misto fra la figura della maschera teatrale e la musica in senso lato, oppure anche l'incontro fra l'orchestra dell'Accademia Rossini e l'organo di San Giuseppe. In pratica ci saranno vari concerti, fra cui anche le otto stagioni, voi vi chiederete perché otto, perché ci saranno le quattro stagioni di Vivaldi più le quattro stagioni di Piazzolla, un concerto per quartetto di sassofoni che esplorerà il repertorio e la versatilità di questo strumento, il rigoletto raccontato, ovvero una versione del rigoletto cameristica, come si usava ai tempi dell'Ottocento proprio, e il diario di Adam e Deva, un racconto in musica basato sul diario di Adam e Deva di Mark Twain, lo Stabat Mater di Pergolesi in occasione della Santa Pasqua, un concerto per tromba e organo, molto bello, importante, un programma molto fitto, fino ad arrivare a maggio con la fioritura e quindi con la lideristica. Come è nata l'idea di questa serie di eventi? L'idea è nata dalla voglia di creare un percorso musicale di qualità, ma anche una consuetudine, non una consuetudine nel senso di luogo comune, ma una consuetudine nel senso di creare un luogo e un tempo dove i vogheresi, e non solo, possano trovare la musica, la qualità della musica da camera, e anche un percorso educativo che noi creeremo all'interno della stagione. Questo fa parte di una serie di progetti e di iniziative a cura di questa Accademia. Quali sono quelli futuri e a che cosa state lavorando? L'Accademia Rossini è un'associazione che nasce come orchestra a fiati, che si sta muovendo sul territorio come orchestra a fiati, creando concerti sinfonici sicuramente, appunto per strumenti a fiato. Voi vi chiederete per quale motivo ci stiamo spostando, diciamo così, in un altro ambiente, ma l'idea di una stagione musicale fa parte del percorso educativo che proprio sta all'interno della nostra Accademia. Infatti i ragazzi che studiano con noi non studiano semplicemente uno strumento, ma entrano all'interno della cultura musicale. Così noi, umilmente, nel nostro piccolo, stiamo cercando di creare un percorso culturale sia interno, quindi per i nostri musicisti all'interno, sia per il pubblico esterno. Per maggiori informazioni c'è un sito internet che è www.accademiarossini.com ed è anche una pagina Facebook sulla quale è possibile recuperare poi anche tutte le date in calendario, è corretto? Esattamente. Poi ci saranno anche degli eventi Facebook, come appunto dicevi, e potrete trovarci anche in Via Dante 7-9, che è la nostra sede. Questa serie di eventi, dieci concerti, si svolgeranno presso una location molto particolare per la nostra città, è la Chiesa di San Giuseppe, che si trova in Via Plana 62. Come mai avete scelto di sfruttare questa location per questa serie di concerti? Dunque, questa chiesa, abbiamo scelto questa location perché è una location che è al centro di Voghera, una location che secondo noi merita di essere rivalorizzata e che ha un potenziale stupendo. L'interno è veramente molto bello, ci sono affreschi del Borroni, c'è un organo del 1800 restaurato che purtroppo non viene suonato, viene suonato soltanto occasionalmente. E questa chiesa, oltre ad essere centrale, che è un punto a suo favore, viene sottoutilizzata per i suoi scopi istituzionali. È, a nostro giudizio, un valore aggiunto quello di rivalorizzare appunto questa struttura portando gente all'interno di questa chiesa, sia dal punto di vista culturale e architettonico suo per la struttura, sia dal punto di vista culturale e musicale. Con questa iniziativa è gente vogherese e non che si avvicina, che scopre un luogo che fondamentalmente durante l'inverno è chiuso tutto l'anno perché non è riscaldato, con una serie di problemi suoi. Noi ci siamo fatti carico come associazione e come organizzazione di risolvere questi problemi per rendere un luogo fruibile ai vogheresi e agli abitanti dei dintorni, aspicandoci che ci sia una risposta importante che diventi finalmente un luogo sentito, un luogo che possa diventare un polo culturale della città, quindi riconosciuto e riconoscibile in città per questo tipo di attività. Infatti facciamo appello ai cittadini affinché questo sia un punto di partenza perché questa struttura diventi, come appena detto, un punto di riferimento. Se ci sarà un successo per queste dieci serate, per questi dieci pomeriggi, allora sicuramente questa chiesa potrà diventare un punto di riferimento per la cultura e per la musica voghera. Assolutamente sì, sono dieci appuntamenti che, come diceva il maestro Zanovello, non sono dieci appuntamenti dedicati solo a un pubblico di nicchia, ma sono dieci appuntamenti che possono essere fruibili e ascoltati, guardati da tutti, non solo dagli addetti ai lavori. Ed è questo, secondo noi, un altro punto interessante perché bisogna avvicinare i vogheresi, la gente, gradualmente a un percorso musicale educativo.